Federico Cerutti, 23 anni, dottore di ricerca in genetica, biologia molecolare e cellulare e musicista. Lo scorso 30 maggio, poche ore prima delle elezioni comunali di Vigevano, alle quali si era candidato come consigliere, ha scelto di togliersi la vita comunicando la sua scelta pochi minuti prima attraverso una lettera pubblicata su Facebook. Lo staff di Giapp TV ha scelto di ricordare Federico attraverso le parole della nostra collaboratrice Martina Vaggi. Poco prima di compiere questo gesto hai lasciato sul profilo della tua pagina Facebook una dichiarazione di inadeguatezza ad un'umanità che tu descrivi in tutte le sue carenze, in tutti quei valori in cui non è più possibile credere, in quanto molto ardui da localizzare. L'enorme sensibilità umana che tu hai dimostrato di avere descrivendo la tua dimensione emotiva interiore si contrappone fortemente a quella realtà emotiva del mondo esterno, incapace di apprezzare, accettare e persino capire chiunque tenti di indagare in profondità, nella ricerca disperata di risposte più concrete, di speranza di una vita dignitosa che tu non hai trovato. La continua ricerca di un essere umano che sia unico e che riesca a custodire la dolcezza di un altro anziché tradirne la sensibilità come tu stesso hai detto, rappresenta la ricerca più profonda che ogni essere umano ha portato a fare nel corso della sua vita. Il dramma di non trovare nessuno che riesca ad accettare questa sensibilità e anzi la condanni è il dramma che oggi coinvolge il nostro mondo, l'idea che l'umanità sia ormai sprofondata nel baratro della superficialità più completa, di quella cattiveria che condanna la bontà e la relega in un recinto di diversità dal quale è necessario allontanarsi per poter sopravvivere nella maniera più egoistica possibile. Vorrei poter dire di trovarmi in disaccordo con ogni parola che tu hai scritto, perché questo potrebbe portarmi a pensare che il mondo in cui ognuno di noi si ritrova a vivere sia effettivamente migliore di come tu l'hai descritto, ma non è così. Rimango io stessa basita nel trovarmi d'accordo su ogni frase da te scritta e nel sentire quel sentimento di delusione che trassuda da ogni sillaba e che io talvolta provo quando mi ritrovo ad osservare la realtà umana che ci circonda. Una realtà che costringe una persona come te che ha espresso così profondi valori a togliersi la vita e permette invece ad altre persone più superficiali di vivere serenamente non può essere definita una bella realtà. Credo che ci voglia molto coraggio per accettare di vivere in questa realtà, ma ce ne voglia altrettanto nel scegliere di non volerne fare più parte, specialmente se questo implica un continuo stato di malessere della propria persona.